vi faccio vedere l'outfit di oggi ho rimesso questo pantalone questa maglia tutta svolazzante sotto ho un toppino bianco strano davvero lo potevo mettere nero ma ormai avevo messo questo come scarpe questi qui e si va allora adesso vi faccio vedere che strano il tempo perché letteralmente è uscito il sole ma c'è un sole proprio forte qua che stanno a dipingere cose anche perché sentivo i lavori comunque è tardissimo cioè è tardissimo qua tutte le cose già messe per strada fa stranissimo perché ieri c'era allerta meteo tifone e oggi guardate così devo settare ovviamente il navigatore capire a quale formato a scendere e vi porto al common ground si chiama che è tipo un centro commerciale molto particolare perché è fatto proprio in un modo particolare ovviamente la cosa simpatica di tutto ciò è che fino a qualche giorno fa c'era anche qui tutto brandizzato JK adesso non c'è più niente ovviamente ma comunque era da vedere questo posto anzi io devo ancora mangiare in realtà quindi molto molto probabilmente adesso vado su e vedo se c'è qualcosa ok quando è arrivata Mingdong assicuratevi di leggere shopping center con uscita perché come vedete qui sotto è pieno di negozietti e vengono tutte le robine anche dentro ovviamente ecco i nostri amici un po' di carte un po' di cose stampate dei set carini ovviamente poi ci sono anche tutti i vestitini qua cd dvd come vedete è pi camicette alla coreana che sono queste con la parte lunga dietro le vedete a tutti sono un sacco farine effettivamente ecco un altro stile classico coreano ecco altri album qua calcinelli di tutte le fantasie ovviamente ah quanto costa un paio 1500 won che sono circa un euro 7 paio a 10.000 a parte la cosa bellissima sono proprio le vibes che c'ha questo posto sembra sempre tutto pulito tutto ordinato tutto tranquillo infatti mi dite sempre nelle storie ma non si sente mai nessuno raga no e poi ecco non ti guardano male se vloghi in questo modo ad esempio guardate le catenelle quelle della mascherina mi sono appena ricordata uscendo da sotto appunto questo centro che qui c'è la scritta con scritto soul e poi qui sopra noi siamo andate per andare alla Namsan Tower abbiamo fatto tutto questo pezzo vedete lì infatti c'è la Namsan Tower sono scioccata ogni volta perché dico ci sono passata qua ma non me la ricordavo o comunque non ci ho fatto caso quindi comunque adesso sono arrivata un po' presto quindi aspetterò Lara che credo mi abbia scritto perché ho sentito un allora sono di nuovo con Lara ormai finché c'è la sfruttiamo perché poi se ne torna in Italia e qui lì sarà un disastro però vabbè le scriverò sarei pronta a tutte le mie richieste comunque siamo venuti qui a Myeongdong questa dovrebbe essere la stradina quella un po' con tutto il cibo ok inizia un po' qua un po' di là qua c'è un amico cosa mi volete dire che cos'è questo topo kidi di Jimin? allora dicci un attimo come si chiamano questi in coreano? Pionijon ok o kombini però kombini perché è più giapponese tipo kombini si si con gli sottori li chiamano convenience store convenience store giustamente dopo facciamo la cosa della cup del ghiaccio che oggi non l'ho fatta è impossibile che ho già fame ma che è? oppure mi sono mangiata non l'ho finita perché qua fanno delle porzioni puoi dirlo delle porzioni abbondanti ma come fanno a finirle? cioè una ragazza si è seduta 10 minuti l'ha sciocchiata io lì da 3 ore i coreani sono così loro mangiano velocemente perché poi dopo devono andare al lavoro infatti c'aveva la divisa da parrucchiera presumo perché c'aveva ancora le mollettine ah queste sono le cose con l'uovo che mi hanno detto queste le tortine con l'ovettino queste che sono polpettine ah giustamente ah quelle di polpo sì 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 impazzendo Ross li vedi? ecco poi li vedrai ah questo è il coso il twist potato guardate cosa abbiamo trovato questo me lo avete mandato in 800.000 che è il negozio degli orecchini ora ci entriamo ci andiamo a fare un giro ma guardate queste cioè questa è una spila per le crocs la piccola sulle crocs i mollettoncini qua fisso ovviamente di tutti mamma mia troppi troppi da dove inizi qua guardate è pieno queste le riconoscete Lara ti piace questo personaggino? tipo allora lì che era il palazzetto del baseball questo skydome qui c'è tutto il viale che bello stiamo andando al pc van che è il posto quello il bar quello dove giochi anche al pc così Lara mi sa provare anche questa esperienza sai quelle cose che dici le ho viste sempre online eccetera però da noi fatto sta vabbè non fate conto che non ho più il fondotinta sul naso molto carina io che poi noto già delle bollicine che non mi piacciono quest'acqua mi sta rovinando c'è qui strano a parte che è interrato giustamente perché qui non ti devono far capire la dimensione del tempo qui c'è il fidanzato di Lara che al momento non è pervenuto ma dopo se vuole ci fa un saluto attenzione in corso c'è ancora una bella luce comunque per riprendere qua scusate Lara aveva tutte le mie caps dei bit diceva una cosa poi non so se ci restano anche alcuni che hanno la lingua angla ma non c'è ma già fa che sono solo in coreano solo in coreano allora qui c'è il reparto cibo praticamente è questo qui e vi si apre tutto il menù però questo era quello con le ore giusto anche questo è solamente le bibite con le barri come si dice i vari i sconti i sconti ok ah questo è il pacchetto il set ok ore più bibita la debita è questo una robina ma ridagli la zona si arrabbia ma chi si arrabbia? ah ma tu perché l'hai giardinata? sì io perché mi stava scadendo il tempo allora abbiamo detto ah questo è quello con lo spiedino sì sì ma che c'è sopra una salsiccia che cos'è? questa è la salsa sì c'è anche qualcos'altro questo voglio quei cosi cosa si chiamano questi? la presente? sì quelle delghette fritte là i tocco qui i cosetti e Kim Marie Kim Marie e poi queste sono ok si fa così poi paghi con carta o con la carta con la carta allora questo questo è con i soldi e questo è card bene ok tutti i vari i vari metodi ok adesso poi arriverà il tizio arriverà il tizio allora in realtà secondo me ci potete venire anche se non capita il coreano in qualche modo fate col traduttore adesso io vi ho fatto vedere più o meno però non penso che tutte le schermate di tutti questi pan siano uguali non lo so eh ah me la posso togliere la mascherina? sì sì però un po' messa male perché cioè guardate la mia mascherina è che il tiazza ovvero guardi posso scegliere il mio personaggio? posso scegliere il mio personaggio? è già aperto mamma cos'è? non c'è il tuo alimento è buonissimo è buonissimo è buonissimo è buonissimo se volete imparare il parolazzo in coreano vedete qua fish cake gigante mmm questi sono buonissimi però ci sono persone che vengono qua in pizia così poi torni a casa se è già pronto ti metti a letto tornare a casa oggi è stata un'avventura adesso vi racconto praticamente sono andata appunto a prendere la metro vicino alla zona dove abita Lara in cui non ero mai stata e la linea blu scura della metro che sarebbe la linea 1 mi ha detto anche là a essere la più difficile perché ci sono tipo più banchine che vanno in direzione differente quindi non c'è solo o vai di qua o vai di qua stavo aspettando quella verso praticamente Incheon che è la zona dell'aeroporto che sta molto fuori e totalmente dal lato opposto rispetto a quella dove sono io me ne sono accorta subito sono scesa praticamente a quella dopo quindi ho preso appunto l'altra mentre comunque era tardi c'era ancora qualche corsa perché poi sull'applicazione di Nevermap ci sono scritti anche gli orari delle corse e li rispettano lacrima cioè veramente una cosa stupenda e per quanto riguarda i mezzi pubblici guardate non ci si può lamentare di niente però però sono salita poi sulla metro giusta e a un certo punto quando mi mancava una fermata per arrivare per poi fare il cambio con la linea verde che è quella che uso io diciamo principalmente perché è quella che ferma appunto a Ondic University che sarebbe quella di Hongdae si è fermata cioè letteralmente ha detto qualcosa lo speaker che ovviamente non ho capito ma ho visto tutte le persone che scendevano e a un certo punto la luce si è spenta quindi presumo abbia detto tipo fine corsa non si sa bene perché fuori c'erano tutti che prendevano taxi cose io no ho detto ma quale taxi manca una fermata sarà vicina me la sono fatta a piedi per arrivare appunto la linea poi di scambio quindi mi sono fatta una passeggiatina di 20 minuti mezz'oretta ma ce l'ho fatta sono arrivata sana e salva con un po' di ritardo ma sono arrivata quindi poi sono passata al convenience store mi sono presa la cup col ghiaccio di oggi che in realtà vi ho detto ne avrei fatto una al giorno ma mi devo impegnare di più su questo però sono molto contenta di tutte le cose che vi sto portando perché faccio un sacco di storie quindi ricordatevi sempre Instagram e soprattutto tanti TikTok e soprattutto cose utili cioè secondo me vi faccio vedere cose interessanti quindi contate che adesso è l'una e mezza qui io volevo mettere in meditare il video ma non penso di farcela infatti ho messo la sveglia domani mattina presto e lo farò mi sono fermata un attimo e mi sono presa un kimbap di questi qua già fatti quindi adesso lo scaldo un attimo al microonde vi faccio vedere come si fa e poi ho un po' ricaricato il frigo diciamo c'era l'offertina del kimchi quindi ne ho presi tre di questi qua piccolini la marca è sempre questa qui che tra l'altro è quella che si vede in business proposal su Netflix che sono le confezioni più piccole rispetto a quella che avevo preso poi un dolcetto poi rifornimento del mio latte questo qui è quello con il caffè che bevo la mattina perché la mattina non mi va di fare meglio corse le cose quindi la colazione la faccio a casa quindi adesso scaldiamo un attimo questo poi ovviamente metto i tasti a casa perché non lo so insomma un po' così e via è dentro che si fa per se a la assitore è lato 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 Sì. Buongiorno, qui è il 7, oggi è 7, sono lì per il meno un quarto E oggi mi sto incontrando con una personcina speciale Che non avevo mai pensato di incontrare qui tra l'altro Anche lei è di Roma, in realtà Adesso appena arriva, eccola, me la faccio salutare Ci avete scritto tutti che ci dovevamo incontrare, quindi eccoci qua, eccola Ciao, benvenuta nel nostro video, sono arrivati nel nostro video Che bello Allora, tra l'altro quanto è... Non mi sembra un piccoglio del solito Ci siamo prese... Allora, devo ancora preparare qualche caffè Caffè, tipo di quelli che ti prendi tipo il bassetto con i dolcetti, le cose Però questo è buono, perché dovete sapere che uno dei problemi in Corea, come vi ho detto l'altra volta, è le bibite Quindi questo c'è la boracannuccia, prima di tutto, molto carino E poi non fa il caffè Troppo craffè I nostri band sono come noi Letteralmente Oggi fa veramente caldo, non so quanto ma fa caldo E noi con chi sono? Casuali Sì A scuola Due romane Allora, stiamo facendo il nostro solito giro qui a Hongdae, tanto ormai lo sapete, questa strada penso sono meglio di casa mia C'è un bel sole oggi, mi raccomando state attenti alle macchine qua vi mettono tutto come niente, fatevi l'assicurazione Guardate scusate No vabbè, sta scusate Allora, fermata a Jamsil e siamo arrivate da qualche parte sotto qualche uscita del lotte e c'è la fontana di tre, cioè noi romane allo, cioè qua Che strano comunque, comunque la rifanno sta cosa Trovate le scritte se volete riconosci C'è proprio il cinema, c'è tutto qua dentro Tutto, là si va super l'osservatorio Uh, in Italy, eccoci qua Guardate che carino Questo è un bar Che fanno tutto? Bevando i dolci? Tutto Dai, che carino Lei c'è andata Io ci andrò Io ci andrò Dai, è troppo figo In tutto ciò, ma non c'ho i piedi che tu li prende qualcosa? Ah, vero, cavolo Ci sta, c'è lì, lì Ah, quelli sono i tuoi preferiti, quindi Eh sì, erano quelli che non mi piacevano Ecco le mie bevande C'è questo, guardate che carino Ci sono fatti i semini Ah sì Non ci credo Sei stata esposta Allora entrate, c'è la cassa Noi abbiamo pagato la metà Perché siamo venute dopo le 5, quindi vi dico questa cosa In teoria sarebbe 33.000 won, abbiamo pagato 18.500 Guardate che belli Allora, qua in teoria si vi dice cosa c'è Ah, eccolo Axolot Guardateli Questo qui sta sopra No, vabbè, ma è troppo bellino Guarda quanti Dai, così sembra un po' più piccolo O magari è alto come mette insieme Ah, quello che c'ha la lingua blue Ok, ok, ok Vedete sempre nei video di quelli che c'hanno tipo i rettili No way Oggi mamma mia Strana Ambigua Ciao Gilberto Tu sei Gilberto di curo Dai, vi prego Bellissimo Molto bello Dai, i coreani simpatici che mettono i piragna Con lo scheletro che però fa il segno da idol Adoro Allora, qui ovviamente c'è la sezione tunnel Che figata Ora ci arriviamo Wow Lui romantiche Lei non si voleva col fidanzato Si è andata con me Guardate che bello Ma le piccole londrine Ah, perché tu la sai Se lo vuole Qui l'interior designer ha fatto un ottimo lavoro Guardate che belli questi Oh, tipo mini anguilline Carine Vi posso dire il mio simile che sta sninnando là sopra Questa si fa Che brava Lei fa attività C'è l'odore di pesciolino Madonna, qui sì C'è l'odore di tartarughe Ce l'avete da bene? Sì La vuole La vuole La vuole La vuole La vuole La vuole Mini squaletti Mini rosette Anzi, è proprio lui Pesso e palla Ragazzi, io sono sconvolta Guardate questa Questa è beluga La vuole è una beluga Dava è bellissima Oddio, mi sento un po' nell'avvocata Wu Mo ti comincio a parlare di tutti i delfini che ho visto a Jeju Allora, qui mi avete persa Perché, cioè, guarda quanto sono affascinanti Ma questo è temato, qui Questi sembrano quei funghi che ci fanno la gioppa Che bello così Wow Cos'è ne è uno? Guarda come è fuoco questo Che strano Ah, lui è appoggiato Eccola la piccola Da quest'altro lato Guardate così Qua sembra piccola C'è la luce tipo quella da discoteca Che ti fa tutte le cose La filetta Wow, guardate quel giudo Le fuochine non sono passate Però, molto carino Tutta l'ambientazione Bellissima Vale la pena? Sì Lì c'è lo shop Se vi interessa Ah, qua che c'è? Oggi sono i miei Io mi sono accortata che in Corea hanno un problema con le calamite Cioè, non hanno calamite Io volevo comprare la calamita Ah, ecco ci stanno questi Ho solo a pesciolino Sono tornata a casa Stanno passando i miei vicini Che li sento parlare Comunque ho passato una giornata bellissima Con Taion Credo ci rivedremo direttamente a Roma Questa cosa è assurda Comunque l'acquario bellissimo Vi ripeto Tra l'altro mi sa che non vi ho fatto vedere l'acquisto di oggi Praticamente qui tutti hanno queste ciabattine C'è questo infradito Un po' altina Sapete che io adoro Fatta così Di gomma insomma Quindi le ho prese Le stavo cercando E in realtà le ho trovate in scontissimo Perché stavano tipo a 19.000 won E le ho pagati 13.000 Che sono circa 8-9 euro Una cosa assurda Mi strucco Mi faccio la doccia E poi ceno Con le cose che ho preso qui a casa Perché vedete sono 8 e mezza Volevo cercare un posto Qualcosa dove mangiare Ma Troppo affollato Comunque Mentre che aspetto che si fa la mia cena Vi voglio portare A vedere come si butta la mondetta In Corea Porticina Che tra l'altro l'hanno lasciata aperta Molto bene Chiudere E in realtà è molto Molto semplice Si esce fuori Con la vostra bustina E si lascia letteralmente qui Poi la sera La passano a prendere Non fanno la raccolta differenziata O almeno Qui dove sto io Non la fanno Però So Di palazzi E posti che la fanno Questo è quello che offre La cucina Topochi Che tra l'altro è buonissimo Radish Che devo finire Questo è un Gimbo Di quelli appunto Col tonno E due uova sode Che ho cercato di fare al microonde E sono scoppiate Non vi dico Però non riesco ad accendere Il fornello Di induzione Perché non sono capace Tra l'altro vi posso dire Questo carbonara Topochi Della Bulldack E' buonissimo Se non vi piace il piccante Radish Questo qui Che è una sorta di rapa gialla Non so bene come chiamarla Che vi stemperà un po' il piccante Se non vi piace tanto O comunque Metteteci meno salsa Di questa qui rossa Quella piccantina Io adoro il piccante Lo sapete Quindi Vediamo le uova Nonostante lo scoppio Perché veramente Non sapevo come altro farle Quindi ci ho messo Tipo un po' d'acqua E le ho fatte fare Ma le estreme Estreme rimedi Detto ciò Comunque io qua Finisco Guardo il signore dei anelli E poi mi metto a dormire Che mi devo svegliare Presto domani Guardate dove sono venute oggi Nel ristorante Dove venivano i BTS Quando erano rookies Un po' di aglio Giusto un po' di aglio Le foglie di perilla Questi ultimi due giorni Sto accorpando un po' di clip Perché vi riprendo giusto Quando c'è qualcosa di interessante Comunque qui Sono le otto e mezza Vi faccio vedere Cosa ho comprato oggi Sono stata da Olive Young Che appunto Qui lo trovate letteralmente Ad ogni angolo E a La qualunque Ovviamente non mi sono portate Le mie sheet mask Quindi Ho fatto rifornimento Queste sono tra le mie preferite Almeno Di quelle idratanti C'era il pacco Dieci Più una E Venivano diecimila won Che sono appunto circa Otto Sette euro E poi Allora in realtà ho preso questo mascara Perché quello che ho portato io da casa Che è questo qui Mi piace Ma fa un po' troppi grumi Per i miei gusti Qui ho detto Ok Provo questo Che è di Lily by Red Dovrebbe essere Volume and Curl Credo di essermi sbagliata Però nel senso che Avevo letto Costasse Ottomila won Quindi ho detto Ok vabbè dai Lo prendo Cinque euro In realtà Ne costava Quindicimila Non l'avrei preso Altrimenti Quindi sono arrivata in cassa E zac Molto carinello Mi piaceva perché Ha lo scovolino Piccolo 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 Sottilissimo Quindi anche per fare Quelle sotto Poi ovviamente Spesa al Pionijon Finalmente ho imparato il termine Io diciamo che Sono lenta Ma poi quando imparo Me le ricordo Che sarebbe appunto Il convenience store Il Convini Come lo vogliate chiamare In coreano si dice Pionijon C'era il 2x1 Di questo gelato Quindi L'ho voluto provare Perché mi sembrava molto Fluffy Poi Questa qui È la maionese La vendono in questo modo Poi ovviamente Uno dei miei Trangle Gimba Stavolta gusto diverso Spam E riso col kimchi Ora Finisco di vedermi La puntata Della nuova serie Del signore dei anelli Che tra l'altro Ragazzi ma che bomba Pazzesca è Costumi Make up Effetti speciali O comunque Prostetica Eccetera eccetera Veramente A un livello Assurdo E poi È uscito anche Su disney plus Il concerto Dei bts Quello A los angeles Ho visto le clip Su instagram Mentre ero in giro Devo smetterla Di stare sempre in giro Tutto il giorno Devo tornare a casa Più spesso Perché Mi stanco facilmente Si vede Eccolo qua Permission to dance LA Quindi sì La mia serata È bella che impostata Ho mangiato per strada Mentre arrivavo Perché qui A Hongdae È pieno Di street food Camioncini C'è veramente Di tutto Devo ancora mangiare I corn dog Non so se lo sapete Ma in realtà I corn dog Nascono proprio In corea Prima che mi strucco E metto fine A questa giornata Volevo dirvi Due paroline veloci Perché Chi mi segue Live su instagram Ne sto facendo tante Questi giorni Perché diciamo che Ci sono poche ore In cui siamo Diciamo Svegli E attivi Nello stesso Periodo di tempo Per la questione Del fuso Ovviamente Quindi ne approfitto Vi saluto Insomma vi parlo Ogni tanto vi porto in giro Qua nel quartiere Eccetera Quindi seguitemi anche lì Ovviamente Se ancora non lo fate Comunque vi ho accennato Già un'idea Di un progetto Che stiamo valutando Se mettere in atto O meno Che riguarda appunto La corea E un possibile viaggio Tutti insieme Le ragazze del team Che mi seguiranno Per questa cosa Saranno appunto In corea Anche loro Tra Tra qualche giorno Presumo Insomma Tra poco Poi ci dovremo incontrare E parlare bene del tutto E solo in quel momento Vi potrò dire Al 100% Cosa appunto Vorremmo fare Però intanto Ecco io Ve lo dico Così Ecco l'idea c'è Ricevo spessissimo messaggi Dove mi viene richiesta Questa cosa Perché magari appunto Ci sono persone che Non sanno con chi venire In corea Vogliono fare questo viaggio Ma non vogliono stare da soli Non sanno magari bene La lingua Non si sentono sicuri Magari sanno di voler vedere Quelle tre cose Che vogliono vedere Ma poi dicono Ok Adesso no Cosa faccio Dove vado Eccetera eccetera Quindi secondo me È un'idea Molto carina Anche perché appunto Magari spesso Si vuole fare questo genere di viaggio Ma si viene un po' frenati Da questi fattori Quindi Sì Beh appunto lì Ho visto tantissime persone Interessate su Instagram Poi tra il dire e il fare C'è di mezzo il mare Come si suol dire Più o meno stavamo valutando Come periodo di farlo Tra marzo e aprile Fine marzo Inizio aprile Tutto aprile Dell'anno prossimo Ovviamente Ci sarò anch'io Quindi Sarà un viaggio Insieme a me Che decideremo Tra virgolette Insieme Ovviamente Voi mi dite Sì tutto bellissimo Ila Però Quanto Vi anticipo già Non può essere un viaggio Economico Perché già solo il viaggio Inteso proprio come Biglietto aereo Alloggio Eccetera Ha comunque un costo Quindi vi dico Purtroppo Per almeno l'idea Che voglio di fare Di stare dai 14 giorni Ai 20 Per chi vuole Non si può stare Sotto ai 2000 Assolutamente no Ma credo neanche sotto i 2005 Ripeto Io ve lo dico Ve lo anticipo Ve ne ho parlato Così Lo sapete Ora Mi vado a struccare Tra l'altro mi è piaciuto molto Il make up Che ho fatto oggi Cioè niente di che Non ho neanche messo l'eyeliner Perché ho sfumato soltanto qui Metto un pochino a posto E poi Vado a dormire Perché Allora ieri sera Non sono riuscita Ad andare a dormire Ero un po' agitata Per Vabbè Fatti miei cose Ho avuto ecco Qualche Deal Questi giorni Quindi diciamo Che Sto cercando In tutti i modi Di Mantenere La mia positività Ecco Non so bene Come altro Spiegarvelo Perché io sono una persona che Mi succede qualcosa Qualsiasi cosa Si fa molto 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 influenzare Sono una persona molto emotiva Quindi Sto cercando appunto Di mantenere Questo mio lato Rispetto a queste cose Che sono successe Per non rovinare il tutto Perché se io Casco in questo bar Lo so che poi mi rovino Tutto il resto dei giorni E Tipo Letteralmente Tutto il resto dei giorni Infatti Quando ci penso Dico Gio Che pizza Poi mi riprendo Poi mi riprendo Non posso permettermi Di avere una crisi isterica Quindi Bellissimo Non è proprio sempre Tutto rosa e fiori Come sembra Sì ok Sono in Corea È tutto bellissimo Meraviglioso Ma insomma La vita La vita Va avanti Detto ciò Per oggi io vi mando Un bacio grande Penso ci vedremo appunto Nei prossimi giorni O comunque In un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.